Lillo e Greg si conobbero quando entrambi lavoravano alla casa editrice Acme di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici, segnatamente zio Tibia, che Lillo Petro lo realizzava con Michelangelo La Neve, mentre Greg si occupava di Sergio o i sottotitolati. Quando nel 1991 la casa editrice fallì, i due, nonché l'intera redazione, si trovarono senza lavoro, decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti. Primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo. Latte è di suoi derivati.